ehi ragazzi cioni che bentornati qua su gt 5 line siamo in compagnia di alex e zi ma hai visto appunto appena appena ho detto chi c'era boom mamma esplode tutto c'è alex esplode tutto ma non ci possiamo non ci possiamo urtare no meglio di no perché sennò mi urta la rabbia a me voi ecco se è urtoso di natura è un urtoso sono ulti cante sono per dirla proprio in italiano non ho ottuso però guarda qua incredibile slide ci guarda e ho sbattuto contro un pilastro non lo so neanche io ok io sto secondo posto primo posto c'è il tarocco di gabbo a capo di awe sum sì ma che cacchio di garene sembra facile facile però non ti preoccupare non ti preoccupare che ci sta arrivano i muretti all'improvviso ecco lo sapevo sbagliato male non sbagliato pensavo di passarci ma sei tu quello che rotola non è l'ascensione ecco che cos'è non so che l'ho preso male vabbè scusa ho capito che tu quando lo prendi da dietro lo prendi un po male alle volte vado a cura cura che fai ogni ogni video le dice l'ho preso male devo farlo da capo non lo so a me quando uno lo sento parlare che mi dice l'ho preso male l'ho preso male però mettete anche trattino alex zia lo specifichiamo dobbiamo andare lungo vedi ma vedete che quando parla che non ce la facciamo a fallo raga perché dalle risate qua e quanto è lungo e l'ho preso male giustamente ti piace vederlo anche bene no non si riesce a fare una persona troppo sottile e l'ho preso il checkpoint meglio specificarmi perché qualcuno pensa male e raga ed è sottile ed è grosso del lungo come faccio a mantenermi dentro la mano e non parlo più ce l'hai pure grosso il buco non ho capito non parlo più se un doppio senso di marcia totale tua scusa ho trovato sempre la curva di sopra neanche a me intanto non so perché ma perché sono dei guarda quale in prima posizione l'ha fatto tutta la volta è la ma tu pensa io sono decimo e tu pensavi che era così difficile che nessuno ce la fa invece siamo rimasti un po indietro e invece io devo prendere quel gusto ok questa è la parte più easy easy della storia non squisi minchia persona non riesco manca a fare un metro madonna santa ma è facile perché non riesco ma io l'ho fatta in prima persona anzi rimettiamo la prima persona perché tanto so già che mi servirà e io non riesco si stanno concludendo sta ancora primo giro non riesco proprio a farla proprio concluso cioè sì perché uno che l'ha fatta proprio senza mai morire il primo io non riesco proprio a farlo e vabbè con tutte le battute che hai hai detto ci credo parecchio distratto infatti le battute che sono le battute no primo colpo ce l'ho fatta neanche in prima persona riesco neanche io ce l'ho fatto il primo colpo e si va avanti io me ne cado sempre super va sempre a sinistro va a destro e vabbè ho capito non cerca scuse finito no niente 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 ragazzi sono un album questa gara mi dispiace non ci riesco questa posizione io sto pensando a prima non so manco pensato da gara pensando ai doppi sensi che mi crea nick ma adesso questa è la scusa infatti è la scuola vediamo dove alex raga che sta facendo rotola bravo rotola oppure ai belli ma che un fly c'è perché anche la macchina vuola mamma mia alex sono nabbo gara di doppi sensi vediamo alex ma che che fa vabbè vabbè vada io se io mi vado a fare un giro allo santos vai si ritorna giù a donna il freestyler sto facendo qua 3 2 1 elevato finito ciao ragazzi gara ignorante questa non era una gara era una cazzeggiata nella gara in pratica vabbè io comunque non ho fatto niente nico invece ho fatto la cazzeggiata dai sono messo a ridere che la sbagliava pure al primo metro dai dai che è questo c'è mezza macchina modata tutto che casino è il bordello eccomi la 4 minuti e 16 invece il primo proprio miglior giro giro va bene ragazzi oggi e non abbiano più che altro lui non ha molto tempo quindi con ci fermiamo per ora qui speriamo che questa gara vi sia piaciuta mi raccomando mi raccomando ragazzi come sempre commentate iscrivetevi lasciato un bel mi piace i canali in descrizione di entrambi li trovate e niente hashtag nicche perverso veramente quello che diceva le cose strane eri tu scusa quindi va bene ragazzi quindi vi salutiamo ci si becca presto ciao alla prossima raga bella raga scusate per il bordello ma ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti